Passiamo dai donuts alle carote, uno dei cibi più sani al mondo, oltre che il cibo preferito dei conigli. Sapevi che non esistono solo carote arancioni? Originariamente le carote erano viola e alcune lo sono ancora oggi. Qui abbiamo questa breve pagina web con una lista dei colori delle carote e una frase sul fatto che erano viola. Abbiamo usato le classi per colorare i nomi con il colore appropriato. Mi piace che questi stili siano in una lista, ma non so se mi piace il viola nel testo. Penso che non dovremmo usare un colore di sfondo e dovremmo optare per una colorazione più discreta. Come posso dire al browser di formattare questo testo viola differentemente da questo qua? Entrambi hanno lo stesso class name, quindi non possiamo utilizzare una classe a meno di non introdurre un nuovo class name. Allora, hanno lo stesso tag strong, quindi non possiamo usare elemento e class name come abbiamo appena imparato. C'è qualcosa che le differenzia? Si, strong questo qui è dentro un tag lì, mentre questo strong è dentro un tag P, quindi la differenza sono i parent tags, ovvero i tags che sono sopra di essi. Possiamo usare questa informazione per creare una regola CSS usando quello che viene chiamato selettore discendente, ovvero un modo di selezionare elementi basato sulla loro posizione nel documento. Ad esempio, per selezionare solo il purple strong all'interno del paragrafo, noi scriveremo P e poi uno spazio, in questo caso lo spazio è veramente importante, e poi il class name purple e ora aggiungeremo le colorazioni più tenue. fondo trasparente che copre quello che c'era prima. Ok, bene. Abbiamo modificato questo testo viola senza toccare l'altro viola. Ora, ogni volta che noi usiamo la classe purple all'interno di un paragrafo come questo, userà gli stili che abbiamo applicato successivamente. Possiamo usare questo spazio per scavare più a fondo nel nostro documento. Diciamo che vogliamo applicare uno stile solo ai tags strong che sono all'interno di lì. Cominciamo con il parent tags lì, poi lo spazio e poi il strong. Forse sarebbe meglio metterli ad altezze diverse per distanziarli di più. Potremmo anche aggiungere un all di fronte a lì se volessimo assicurarci che questo non si applichi agli strong dentro altri tag lì. Vedi, per usare i selettori discendenti bisogna pensare attentamente alla struttura del nostro documento e a quali tags inserire dentro altri tags. Se non hai strutturato bene il documento, comincia a farlo perché ti risulterà molto più facile capire la struttura della tua pagina e avanzare con i selettori CSS di questo tipo. Puoi usare questo spazio per ogni tipo di selettori, come trovare un particolare tag sotto un elemento che ha un certo ID o trovare un particolare di sotto elementi con un determinato class name, qualsiasi combinazione tu debba usare. La cosa da ricordare è che se la struttura della tua pagina cambia, poi le tue vecchie regole CSS potrebbero non essere applicate. Quindi fai attenzione a usarli e alle modifiche che apporti alla struttura del nostro documento. In ogni caso puoi sempre usare le classi se vuoi essere meno dipendente dalla struttura della tua pagina. Torniamo a guardare le regole che ho creato e analizziamole a fondo. La prima regola formatta tutti gli elementi della classe purple all'interno del paragrafo. Se in un futuro aggiungerò un nuovo paragrafo con elementi della classe purple, vorrei che avessero queste proprietà. Sì, perché penso che quelle proprietà andranno sempre bene in un paragrafo. Mi serve una regola più specifica? Forse se questi paragrafi sono sempre dentro alcuni elementi con il class name article potrei aggiungerlo alla regola, ma per ora mi basta quello che ho. La seconda regola fornisce a tutti gli elementi all'interno della lista items una certa altezza di riga. Voglio che gli elementi strong all'interno di lì abbiano un incremento dell'altezza della linea? Forse no, questa regola potrebbe essere troppo generica. Dato che non sono sicura aggiungerò una classe a questo hole e poi la modificherò in hole spacey in modo che sia più specifico. Nel futuro, quando la mia pagina web crescerà, potrò scegliere il grado di specificità della regola. Metti anche questo strumento nella tua cassetta degli attrezzi CSS e fai pratica, così potrai usarlo quando ti servirà.